Buongiorno, oggi è il giorno dell'incontro, io non vedo l'ora, sono struccata, mi sono alzata da poco e mi fa strano vedermi struccata, ma va bene. È mezzogiorno e mezza, io ora pranzerò, cioè tra poco poi mi preparo e vorrò l'incontro, sono davvero super agitata, però non vedo l'ora. Allora, sono le 2 e 5, io adesso parto per andare, cioè provenire da voi, sono agitatissima, però speriamo bene, spero che ci sia gente, è pure una bella giornata, quindi molto bene e andiamo. Grazie 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 Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.